Abbiamo dormito a Udine, adesso il programma della giornata è casa delle farfalle, mummie di benzone e poi saliamo su in montagna. Si vede già da qua della neve, speriamo che non sia troppo e poi saliamo su in montagna. Cambio di panorama Pronti per una mini gita Prima di andare a Cina Bimbi Siamo a Passariano Vicino a Villa Manin Una bella area camper Sino alle caprette Qualche camper Tanta campagna Andiamo a fare una bella bicicletta Ultima sosta Porto Gruaro Con questo Chiudiamo la nostra vacanza Da Porto Gruaro Ciao 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 Ciao